Scuole primarie e secondarie chiuse dal 16 ottobre fino al 30 ottobre in Campania. Una decisione che non va giù al governo. È una decisione gravissima e profondamente sbagliata e anche inopportuna, ha commentato il ministro dell'istruzione Lucia Zolina, intervenendo a Zapping su Rai Radio 1. Sembra ci sia un accanimento del governatore Vincenzo De Luca contro la scuola. In Campania lo 0,75% degli studenti è risultato positivo a scuola e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0,80%. Se c'è crescita contagi non è di certo colpa della scuola. Il ministro ha precisato inoltre non ho né il potere di aprire le scuole né il potere di chiudere le scuole. I presidenti di regione e le province hanno il potere di chiuderle.